La malva è un'erba selvatica che cresce un po' ovunque, su tutto il territorio. Possiede proprietà emolienti ed antinfiammatorie. È utile contro la tosse e forme cattarali delle prime vie aeree. Di tutte le irritazioni del cavo orale ed intestino, è un rimedio naturale contro la stitichezza indicato durante la gravidanza ai bambini ed anziani. Andiamo ad essiccare la malva. Così da usarla a far bisogno. Mettiamo le foglie sparse su un tavoliere o cestini e facciamoli essiccare in un luogo fresco e buio. Dopo tre giorni, ecco le nostre foglie. Sono secche. Possiamo andare a conservarle. Mettiamo le foglie in barattolo uguali come capita. Pressiamo. Prepariamo dei pezzi di stoffa e del cortoncino. Mettiamo la stoffa come coperchio e leghiamo. Etichettiamo ed andiamo a riporre in un luogo fresco e buio. Ottimi sono i decotti che farò vedere prossimamente. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao!